L'immagine più famosa è quella della statua della Madonna con il bambino portata in processione dagli abitanti di Pescara del Tronto e rimasta illesa dopo la scossa del 24 agosto 2016 che distrusse la chiesa e l'altare che lo ospitava. È un caso non l'unico documentato di come reliquie, statue e dipinti su cui si appunta la particolare devozione dei fedeli riescano sovente a sopravvivere illesi alla distruzione. Ognuno lo interpreterà secondo le sue personali inclinazioni ma è un fatto che qualcosa del genere è accaduto anche a Gubbio dove la statua fissata sulla sommità del cielo di Sant'Ubaldo, caduto rovinosamente durante la corsa dello scorso 15 maggio, ne è uscita con la testa il volto del santo singolarmente intatti. Le immagini di quella caduta sono note a tutti con la statua che rovina terra da circa 5 metri di altezza e colpisce prima il muro e poi la barra di ferro che si trova tra gli archi del loggiato lungo il tratto finale di via Cairoli. Le parti della statua si staccano e tra queste anche la testa tanto da richiedere la sostituzione dell'intera statuina. Non erano pochi coloro che ritenevano tale danno irreparabile non nascondendo l'ipotesi anche di realizzare un santex nuovo. L'essito del sopralluogo svolto ieri sera dalla soprintendenza ai beni artistici e storici dell'Umbria nella persona della dottoressa Tiziana Biganti insieme al comune di Gubbio a cui spetta la tutela e conservazione dei ceri e loro statue e insieme anche alle componenti ceraiole e al gruppo di restauratori tra cui l'autore delle statue Luigi Passeri ha dato un esito quasi impensabile. La statua di Sant'Ubaldo è in più che buone condizioni, in particolare la sua testa, l'elemento più nobile ed esposto al culto, è assolutamente intatta. In collegamento telefonico la dottoressa Tiziana Biganti della soprintendenza ai beni storici e artistici dell'Umbria. Dottoressa, ieri un incontro in comune a Gubbio per parlare e definire i dettagli del restauro della statua di Sant'Ubaldo, quella che si trovava sopra il cero di Sant'Ubaldo. Innanzitutto come ha trovato la statua, in che condizioni è e si può procedere ad un suo restauro? Dunque guardi la statua, abbiamo fatto ieri questo sopralluogo tecnico, io sono intervenuta come funzionario che ha, come è noto, curato l'ultimo restauro dei ceri. La statua l'abbiamo trovata con qualche problema, ma assolutamente minore rispetto anche a quello che immaginavo. La testa, il volto è assolutamente illeso, quindi ci sono dei piccoli cedimenti nelle mani che possono essere perfettamente riparati. Quindi non si tratta tanto di un vero e proprio restauro conservativo, si tratta di un ripristino, perché è un bene che va usato, come bene demo etno-antropologico va usato e quindi va messo in condizioni di essere rimesso nella sua posizione sopra il cero e di ritornare a vivere la sua funzione per la quale è nata la statua. Il volto del santo è quasi spiegabilmente intatto, lei se lo giustifica in qualche modo una casualità? È ovviamente una casualità che ci lascia un po' perplessi, ci fa pensare che questa ipotesi che il volto sia una parte particolarmente rilevante e che ci piacerebbe pensare che ha avuto una particolare tutela anche da parte di chi ha il potere dall'alto di determinare le nostre situazioni terrene, quasi che Santo Ubaldo abbia in qualche modo protetto la sua immagine. Tra l'altro questa cosa, uscendo da Gubbio, andando per esempio anche nei territori feriti della Valnerina, non è inusuale, cioè è accaduto altre volte, ora sarà casualità oppure no? Insomma poi ognuno gli dà una lettura, quella che vuole, però insomma è accaduto, le risulta che è accaduto altre volte, che statue sulle quali si appunta particolarmente la devozione dei fedeli poi alla fine si siano salvate anche da eventi drammatici come quello che potrebbe essere un sisma? Queste sono manifestazioni diciamo di straordinarie, no? Quello di rimanere illesi in una chiesa completamente crollata, ecco. Alcune immagini, proprio per questi prodigi, chiamiamoli così, diventano più importanti per i devoti stessi, no? Perché? Perché significa che possono essere un simbolo di immunità, un simbolo ai quali rivolgersi, un particolare venerazione in caso di occasioni drammatiche. E questo nelle zone del terremoto è accaduto per tanti casi, immagini che poi vengono ritenute particolarmente importanti per la collettività. Ecco, l'ultima domanda per lei. I tempi di questo restauro o ripristino, come vogliamo chiamarlo, della statua di Sant'Ubaldo, immaginiamo possano essere relativamente brevi? Sì, assolutamente. L'intervento è semplicissimo, quindi di ristabilire la coesione tra i pochi elementi che sono stati in qualche modo rovinati, ma è veramente un intervento minimo. Alla sede dell'Università dei Muratori si sta valutando, anzi si è già valutato, il tipo di lavoro che bisognerà fare per il ripristino, il restauro della statua di Sant'Ubaldo. A Paolo Salciarini diciamo, qual è lo stato di questa statua? Come è venuta fuori dal 15 maggio? Ma intanto devo dire che già si parla troppo di questa vicenda, perché già è tre o quattro volte che ci riuniamo come commissione. La storia di Ceri la conosciamo tutti, è fatta di corse, di cadute, di risorse e di rinascite, perché il Cero cade, il Cero si rialza, rappresenta un po' i motivi della vita. Quindi se cade il Cero non succede niente, è un fatto più che naturale della festa di Ceri. Però quando cade il Cero purtroppo qualche volta ci sono conseguenze molto ma molto negative sui Santi. Una cosa particolare su questa caduta di Sant'Ubaldo che tutti abbiamo visto in televisione. Abbiamo visto un santo che è andato a cozzare direttamente sul muro di casa Antonioli Ferranti. L'immagine che ci eravamo fatta che si era tritato, a Gubbis dice che era ridotto in trecoli. La cosa che ci ha sorpreso, ma fortemente sorpreso a tutti, è che quando abbiamo visto i reperti siamo accorti che la testa del santo è intatta, non c'è una scalfitura e questo qualche volta ci fa pensare. A cosa? Ci fa pensare che forse questo volto piace anche a Sant'Ubaldo che se l'è riservato, l'ha protetto lui stesso perché veramente è intoccato, tanto che credo che per chi metterà mano al restauro, al ripristino, perché di ripristino si tratta, credo che non ci siano grosse difficoltà. Ovviamente qui si entra nella sfera di chi crede e chi magari no, insomma è una sfera personalissima, però è un dato di fatto che nella storia ci sono situazioni in cui statue e figi sacre sono state preservate da vicende rovinose. Non è la prima volta, ieri mentre eravamo qui con la dottoressa Biganti della sua intendenza ci raccontava dei particolari proprio legati al terremoto. Ognuno la pensa come vuole, è bello perché siamo liberi di pensarla come ognuno vuole affermare il proprio pensiero o meno, però sta di fatto, io guardo la realtà, sta di fatto che la testa di Sant'Ubaldo dopo aver cozzato sul muro e caduto da quell'altezza l'hanno raccolta, l'hanno portata qui, non c'è una scalfitura. E questo per me, vabbè, io la penserò come non tutti la penseranno, però per me è molto significativo. Le parti più danneggiate del santo risultano essere le mani, la sinistra in particolare, mancante di quasi tutte le dita, mentre la parte destra ha spaccature più vistose ad un braccio, marcata la ferita inferta dalla stanga di ferro anche alla parte bassa della statua. Recuperate invece tutte le parti della veste del santo, compresa la fibbia del mantello, al cui interno è conservato l'oggetto più vicino al patrono, un lembo del piviale originale, preziosa reliquia che per fortuna o per altro motivo ha resistito alla caduta e alla sua perdita. Già al lavoro il gruppo di restauratori che si occupa della cura dei ceri per un intervento che sarà di ricostruzione delle parti mancanti e di riassemblaggio. Con Roberto Fofi affrontiamo invece la questione tecnica, restauro, ripristino, riassemblaggio. Che cosa sarà il lavoro sulla statua di Sant'Ubaldo? Intanto volevo premettere che io faccio parte di un gruppo di restauratori abbastanza completo nelle esperienze ma anche nelle professionalità. quindi sarà un lavoro di ripristino dei danni e riparazione dei danni. Abbiamo la fortuna di avere l'artista qui con noi all'interno del gruppo quindi bisogna semplicemente trovare un equilibrio fra parti minori fortunatamente da rifare e parti da riassembrare e riparare. Ecco Paolo Salciarini ci parlava di un volto praticamente intatto insomma c'è giusto un graffio ma niente di più le mani magari sono più danneggiate, mancano delle dita ecco lì come si lavorerà nella realizzazione immagino del pezzo mancante? Sì è abbastanza semplice andare a immaginare il rifacimento di piccole parti come le dita rappresentano. Io ho avuto la fortuna di poter assistere alla nascita di questi nuovi santi perché era il 2010-2011 quindi abbastanza contatto con Luigi Passeri in tutto il percorso che lo ha visto protagonista. Quindi so i ragionamenti, so anche che magari ci sono parti del santo più sensibili più soggette a rotture in caso di urti abbastanza pesanti e Luigi ragionava e ha messo in pratica anche dei sistemi diciamo di sganciamento delle parti delle spalle, delle braccia ma di poter non avere molta resistenza in caso di urti violenti con le mura o con le parti inferre come in questo caso. Quindi i danni sono a mio avviso contenuti. È dal 92 ripeto che siamo stati in questo gruppo e purtroppo abbiamo visto cadute anche più rovinose che hanno comportato più impegno ma come tutti quelli che ci hanno preceduto e ci hanno insegnato fa parte diciamo del dovere dell'appartenenza a una comunità e anche in qualche modo posso dire che è un onore poter far parte di questo gruppo e poter sistemare con attenzione ma con amore queste componenti così importanti. Poi diciamo un'ultima cosa con un restauratore che ne ha viste tante di statue anche antiche insomma cioè statue integre anche del 600, del 500 insomma è un po' difficile a volte trovarle le statue hanno una loro storia parti che vengono rifatte quindi anche questo farà parte della storia di questa statua. Ma sì sicuramente questi hanno comunque diciamo la caratteristica di correre e quindi a differenza delle altre che vanno in processione e quindi come ha detto Paolo prima fa parte della storia quindi i ceri corrono, i ceri cadono si rompono e si riparano io parlo di ceri perché non faccio una distinzione tra statuine e macchina digna il gruppo è coeso è convinto e saprà fare un buon lavoro anche in questa situazione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.